vivesse di ovvietà chi il finanziere benesti a cura di vb nel traffico lento della consolare daniela ripensò anche agli altri amici con cui aveva passato una giornata alimentare diceva marcello e si chiese perché non riusciva mai a dire nemmeno agli amici ciò che veramente lei sentiva dentro di sé lasciando che ogni riunione vivesse di ovvietà cerchio naff attraverso paolo n domanda perché non riesco mai a dire quello che sento dentro di me specie alla presenza di persone a cui tengo fratello a dimolato da questa domanda farò un'anticipazione di quello che vi sarà detto sotto un'altra veste dall'entità alessandro e vi dirò questo voi tutti siete di fronte a questa realtà dell'evento realtà che come la figlia elle puntualizzava sembra imbevuta di un relativismo assoluto e totale mi sembra fosse questo il tuo pensiero la partecipante elle risponde in modo affermativo e non senza un certo stupore giacché il pensiero cui fa riferimento fratello a è stato appena accennato dalla stessa e prima della trans a un altro partecipante nella fase iniziale della riunione fratello a quindi in qualche modo un relativismo che isola il soggetto che lo allontana proprio oserei dire paradossalmente dallo scopo fondamentale per cui noi vi diciamo queste cose cioè l'unione e l'amore sembra quasi che noi siamo i primi a predicare bene e a razzolare male vi spingiamo a trovarvi gli uni con gli altri ad amarvi e nello stesso tempo vi insegniamo che siete completamente soli completamente relativi che di fronte a voi probabilmente ci sono delle maschere allora vorrò la questione prima in modo generale poi risponderò proprio a te cara sul tuo problema fondamentale la prima domanda è non è forse vero che ogni azione quando trovi in sé stessa la sua ragione d'essere e con questo intendo dire amare un altro non è più vero quando si fa perché si è convinti del principio dell'amore per l'altro piuttosto che quando si fa perché si è convinti che c'è un altro davanti a noi per essere più esplicito si ama più veramente quando si ama per principio perché si è convinti che questa è l'unica via per vivere veramente senza domandarsi se l'oggetto del proprio amore è una coscienza una creatura consapevole o una nostra proiezione concordate su questo è ovvio è molto più semplice amare qualcuno essendo consapevoli che questo qualcuno è un altro da noi molto più difficile amare qualcosa di cui non si conosce la vera natura di cui non si sa nulla non si sa se è o se non è una nostra proiezione allora questo relativismo non vi porta forse a comportarvi in modo reale per l'unico motivo evolutivo possibile perché in altre parole questo è l'unico modo di esistere non vi spinge ad amarvi ad amare a fare il vostro dovere solamente perché ciò è giusto e non perché ciò può avere un effetto sull'altro perché l'altro non sapete neanche se esiste avete compreso cosa voglio dire ve lo spiegherò in modo più semplice nel momento in cui vi trovate di fronte a un'altra creatura il vostro atteggiamento può essere un atteggiamento di odio o d'amore o di indifferenza e questo atteggiamento si basa su una convinzione su una credenza che l'altro sia altro da voi che esista in qualche modo questo vi permette di attribuire agli altri parte dei vostri atteggiamenti intendo le motivazioni dei vostri atteggiamenti mi comporto così perché l'altro fa questo mi comporto così perché l'altro mi manda questo messaggio se noi decostruiamo questa credenza che di fronte a noi esista realmente un altro e poniamo su questo un punto interrogativo per ora noi ci comporteremo bene non perché l'altro si comporta bene con noi o male perché l'altro si comporta male con noi ma convinti del fatto che l'altro è una nostra proiezione ci comporteremo con lui nell'unico modo evolutivo possibile per noi stessi cioè convinti di farlo perché è giusto e non perché uno stimolo esterno ci ha condizionati perciò ama il prossimo tuo come te stesso già vi ho detto vuol dire molto di più delle parole banali che possono suonare al vostro orecchio vuol dire ama il tuo prossimo senza preoccuparti che di fronte a te ci sia un altro da te ama perché è giusto amare e fa il tuo dovere perché è giusto farlo quanti di voi fanno il proprio dovere pensando che questo sia giusto veramente e quanti invece lo fanno perché sentono delle responsabilità così io insegnerò a mio figlio a comportarsi in un determinato modo perché ho la responsabilità di averlo messo al mondo perché lui è una creatura in evoluzione invece io vi dico per quanto questo vi sembri retto e positivo l'unica via comportarsi con questo qualcosa che ho di fronte a me trasmettendogli ciò che io penso sia giusto a prescindere dall'essere in se stesso partendo solamente dal presupposto che se questo sento questo sono questo devo fare capite cosa intendo dire domanda però quello che noi riteniamo giusto all'atto pratico può essere non in sintonia con l'ambiente la cultura la situazione sociale in cui viviamo fratello a ecco che di nuovo ricadi nel problema perché se tu vedi l'ambiente la cultura la società come qualcosa di oggettivo ecco che non sarai mai te stesso perché ti senti autorizzato a modificare ciò che veramente sei in virtù degli stimoli esterni che questo qualcosa che tu ritieni oggettivo ti sta dando domanda io capisco quello che dice nel suo intimo significato ma è difficile l'applicazione fratello a se fosse facile saresti tutti già arrivati a una vita differente domanda anche perché nell'applicare quello che io sento giusto anche se gli altri sono solo una mia creazione io comunque posso sentirmi al centro di un giudizio di una critica negativa fratello a vedi quanti problemi questa oggettività dell'altro che sembra la liberazione della solitudine dell'individuo vi rende veramente soli perché in questo modo non conoscete mai voi stessi ma indossate maschere del relativo illusioni e diventate illusioni voi stessi perché non siete mai voi ma siete voi illusoriamente voi immediatamente a ciò che lo stimolo esterno vi propone vedete io comprendo le vostre perplessità le sento presenti e le capisco tuttavia finora la vostra morale vi ha spinto a comportarvi per gli altri io vi sto dicendo siate voi stessi e questo sarà ciò che vi farà evolvere vi dico ancora di più amare l'altro per l'altro senza convinzione non vi evolve un granello di sabbia essere veramente voi stessi un solo attimo in un'intera incarnazione vi evolve per un intero oceano domanda ma sentirsi responsabili non è una diretta conseguenza di quello che uno ritiene giusto fratello a bisogna vedere se ci si sente responsabili perché si è influenzati da fattori esterni intendimi io posso sentirmi responsabile di non essere me stesso nei confronti di ciò che ho davanti a me non di non dare a questo qualcosa davanti a me ciò che dalla società all'altro da me questa stessa creatura si aspetta facciamo un esempio paradossale in una società religiosa l'individuo si sente responsabile di non aver educato in modo religioso il proprio figlio tuttavia quell'individuo potrebbe avere la coscienza adatta per tirare fuori il proprio figlio da una condizione puramente umana come quella di una società religiosa dando dei valori reali dei valori spirituali e non dei valori istituzionalizzati allora se si sente responsabile di aver creato un diverso manifestando la sua evoluzione nelle proprie azioni vuol dire che si sta facendo influenzare dal mondo esterno dall'illusione difatti badate bene quelli che hanno veramente vinto le loro battaglie evolutive hanno dato qualcosa al mondo sono stati quelli che hanno operato fuori di qualsiasi schema preordinato e quale schema più generale di questo che vi insegna che di fronte a voi può esserci il nulla e che tuttavia voi dovete comportarvi secondo i dettami del vostro cuore avete compreso? procedevano in fila sulla consolare e Daniela ricordava questo brano di fratello A che aveva letto e commentato con gli altri durante la riunione mensile certamente lo ricordò per quello che aveva compreso questo le bastò per osservare in quel momento Marcello con altri occhi non come un marito avvizzito ma come l'altro di cui parlava fratello A un altro che per lei non era il marito ma una sua proiezione, una sua esigenza con questo pensiero Daniela Tutti, la noia del viaggio grazie a tutti